Cessione per delinquere, turbata libertà degli incanti, corruzione per l'esercizio della funzione, corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio e peculato. I carabinieri della compagnia di Partinico hanno seguito un'ordinanza di misure cautelari emessa dal GIP al Tribunale di Palermo su richiesta alla Procura della Repubblica nei confronti di 11 indagati. Il GIP Elzabetta Stampacchi ha disposto agli arresti in carcere per Giuseppe Gaglio di Partinico, Massimiliano III di Palermo, Gaetano Di Giovanni di Raffadali, ai domiciliari Giuseppe Chiamonte di Palermo, Francesco Chiavelle e Salvatore Lobbiundo, entrambi di Partinico, Maria Piafalco di Marsala, Aldo Raimondi di San Cataldo. Sospensione dal pubblico ufficio per Maria Rita Milazzo di Bisacquino, Michela Sclafani e Antonio Geraci di Palermo. L'indagine ha delineato l'esistenza di un'associazione per delinquere finalizzata a commettere delitti contro la pubblica amministrazione, composta da quattro persone al vertice di una cooperativa di servizi sociosanitari con sede a Partinico. Tramite la cooperativa i quattro soci avrebbero avvicinato pubblici ufficiali, sette fra dirigenti o funzionari di Partinico, Balestrate, Marsala, San Cataldo e Grigento della città metropolitana di Palermo, oltre a un ex sindaco di Partinico, al momento dei fatti, privo di ruoli nella pubblica amministrazione, che avrebbero corrotto con denaro, regalie e cene. Inoltre, numerose sarebbero state le assunzioni alle dipendenze della cooperativa di persone indicate dai pubblici ufficiali. L'obiettivo sarebbe stato di velocizzare i pagamenti e la liquidazione da parte degli enti locali nei confronti della cooperativa, o aggiudicarsi costosi appalti per servizi pubblici relativi ad attività socio-assistenziali. Sarebbe stata inoltre rilevata l'emissione di una fattura per la retribuzione di servizi mai prestati di circa 30.000 euro da parte della cooperativa, poi spesata dall'ente pubblico. Tra le varie acquisizioni, gli investigatori avrebbero individuato a Borgo Parrini il luogo abituale d'incontro tra i vertici della cooperativa e alcuni dei pubblici ufficiali compiacenti, dove sarebbero stati rinsaldati i reciproci illeciti legami.